Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 50 bis Vardelgrappa e del Passorolle in territorio di Arsia in provincia di Belluno. Due automobili si sono scontrate frontalmente. In uno dei veicoli c'era una famiglia composta da tre persone. Tutti sono rimasti feriti, anche il figlio della coppia che si trovava nella Clio. I quattro feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti all'ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. L'asfalto era reso scivoloso dal bagnato in seguito alle precipitazioni presenti sul territorio.